Musica Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6. Iniziamo subito la nostra rassegna stampa partendo dalle prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Il centro vedete già alle mie spalle l'edizione di Pescara, il titolo di apertura, eccolo qui, il sindaco no al blocco del traffico. Salta l'ipotesi domenica a piedi, ma lo smog è da record. Andiamo nel taglio alto perché troviamo un'altra notizia importante, nuovo scontro sul caro pedaggi. A24 ed A25 no del gestore alla sospensione degli aumenti dopo il vertice con Del Rio che c'è stato nella giornata di ieri. La concessionaria di A24 ed A25 che è strada dei parchi non è comunque disposta ad accogliere soluzioni che scaricano di nuovo sulla società all'onere delle tariffe. E' così il gestore, appunto, la doccia fredda che spegne per ora gli entusiasmi e arriva alle 21 dopo l'incontro a Roma sul caro pedaggio. Andato in scena ieri al Meet al quale, oltre al ministro Del Rio, hanno preso parte d'Alfonso Zingaretti e di sindaci abruzzesi. Di cui viene riportata la reazione, eccola qui, e i sindaci decidono di continuare a protestare. Altre notizie, la sentenza, rischio chiusura per 300 scuole abruzzesi sul tema sicurezza e poi la decisione arriverà domani per quanto riguarda i rifiuti da Roma. Domani appunto il sì della giunta di D'Alfonso ad accogliere i rifiuti della capitale. Andiamo adesso invece a centropagina e nella fotonotizia troviamo l'iniziativa dei giovani di Confindustria. Ecco i ragazzi che hanno conquistato le aziende. Nella didascalia è arrivato a conclusione il percorso formativo promosso da Confindustria, chiamato Impresa in Accademia, che ha portato i giovani a partecipare ad una serie di workshop e laboratori con stage trimestrali attivati nelle aziende partecipanti al progetto. Ieri tappa finale con la premiazione dei vincitori. All'interno troviamo un'altra notizia importante che riguarda il mondo della scienza, la scoperta a Pennino, il magma causa dei terremoti. Una sorgente di magma scoperta sotto la catena montuosa Penninica nell'area del Sannio Mattese sarebbe la vera causa dei recenti terremoti. Così almeno sostengono i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Nelle cronache di spalla Pescara, pescatori in calo, rottamate 11 barche e poi Montesilvano, auto inseguita per 6 km, un arresto. Ancora penne e trasloco forzato per i negozi dopo il sisma. Ora scendiamo nel taglio basso. Il pasticcere che ha tionfato a The Wall ho vinto per papà Corrado, il figlio di Roma, il tecnico morto nel 2004, protagonista in TV, ha vinto 66 mila euro nel programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5. E poi il Festival di Sanremo, ormai siamo a meno di un mese dall'avvio del Festival, Michel e Favino all'Ariston con Bagnoni. Andiamo avanti sul quotidiano Il Centro, adesso passiamo a vedere la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto, il titolo di apertura e di cronaca, rifiuta l'alcol test e fugge e viene arrestato. A Chieti finisce i domiciliari un 48enne già condannato per tentato omicidio. Nel taglio alto ritroviamo tutta la parte legata allo scontro sul caro Pedaggi, poi a centropagine invece nella fotonotizia, incidente allo scalo di Fossa Cesia a Torino di Sangro, treno merci di raglia nella stazione. Fortunatamente non ci sono feriti. Nella didascalia qui in basso, treno merci di raglia, nella stazione senza conseguenze, l'incidente è avvenuto lunedì notte nello scalo Fossa Cesia a Torino di Sangro a causa di un guasto tecnico avvenuto nella galleria Sinello. Due dei 16 vagoni container del convoglio, proveniente da Brindisi e diretto a nord, sono usciti fuori dalle rotaie. Nelle cronache di spalla, le altre notizie dell'Hollis rientro in aula tra i rifiuti dopo i lavori e poi a vasto, nuova spaccata, ladri devastano un panificio. A Ortona, l'escavazione del porto, oggi si decide. Nel taglio basso, invece, notizia che arriva da Guardia Grele, i battesimi di Roberto e Samuel. Due disabili ricevono il sacramento in ospedale a 54 e 39. anni. Proseguiamo sempre sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere adesso l'edizione di Teramo, il titolo di apertura, anche qui è di cronaca. Si barica in casa con tre fucili, abbellante, anziano minaccia di fare fuoco sulla nipote e sui passanti. Poi, a centropagina, a Giulianova, i funerali del dirigente regionale, l'abbraccio di tanta gente per l'addio a Tentarelli. Nella chiesa della Madonna dello Splendore a Giulianova c'erano tantissime persone che hanno voluto dare l'ultimo saluto a Francesco Tentarelli, intellettuale dirigente regionale, scomparso domenica scorsa a 63 anni. A rappresentare la città c'era il sindaco Mastromauro. Andiamo a vedere poi nelle cronache. Martinsicuro, donna muore nello scontro sulla Adriatica e nel Teramano. Torna a salire il numero delle imprese. Ancora da Teramo, aggressione omofoba, un condannato. Scendiamo nel taglio basso, sempre dal capoluogo. Le società sportive sono salve, il commissario proroga infatti la gestione dei campi di calcio. C'è l'accordo, l'intesa è stata raggiunta al termine di una riunione tra il commissario prefettizio del comune Luigi Pizzi e i rappresentanti delle società sportive FIGICI e CONI, ripristinati i contributi che erano stati concessi dall'amministrazione Brucchi che è caduta. Continuiamo con il quotidiano Il Centro, l'ultima delle quattro prime pagine provinciali è quella di L'Aquila Vezzano Sulmona. Mattarella, la festa dei laboratori. Lunedì l'INFN compie 30 anni, ci sarà anche il capo dello Stato. A centro pagina, nella fotonotizia, l'Aquila proteste in ospedale, lunghe file e caos alla farmacia del San Salvatore. Nella didascalia, vedete come accade da qualche tempo, da quando la farmacia è stata trasferita sul lato della chiesa, fuori dai locali, si è formata una piccola folla, momenti di tensione fino all'assicurazione dell'ASL, risolveremo il problema. Nelle cronache, dall'Aquila alla CNA, 37 mila dipendenti senza più lavoro, questo è il report. E poi Goriano Sicoli, ladri rubano sigarette e cibo in tabaccheria, ancora dal capoluogo. Molinari e i suoi 80 anni vissuti tra la gente. Nel taglio basso, il calcio ultimatum di Piccinini, l'assessore, troppi debiti, così chiudiamo lo stadio Gran Sasso. L'Aquila società ancora nella bufera, è scoppiata la grana dei debiti che la società ha nei confronti del comune sull'utilizzo dello stadio. Il progetto case, in assenza di immediate garanzie sul piano di rientro della situazione debitoria, avverte l'assessore allo sport Piccinini, l'amministrazione sarà costretta a impedire l'accesso al campo. Adesso cambiamo testata, passiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Il titolo di apertura è sui rifiuti, la regione va verso l'ok. L'Abruzzo è disposto ad accogliere la spazzatura da Roma, ma pone delle condizioni. Vogliamo conoscere la quantità di immondizie e quanti viaggi saranno necessari. Andiamo a leggere un estratto dell'articolo, è ormai evidente che la strategia della regione, scrive il collega D'Ascoli, è quella di dare l'ok all'arrivo di ulteriori rifiuti indifferenziati da Roma, a patto però che venga ben delineato il contesto dell'emergenza e la sua durata. La linea della responsabilità condizionata è quella che portano avanti con fermezza sia il governatore Luciano D'Alfonso che il sottosegretario con delega all'ambiente Mario Mazzocca. Andiamo avanti nella lettura. Ad oggi, al di là di una dichiarazione a mezzo stampa della Didiama, che è la municipalizzata romana che si occupa dei rifiuti, non c'è alcuna richiesta ufficiale di ulteriori conferimenti rispetto a quelli che vanno avanti ormai da tre anni, 180 tonnellate al giorno nell'impianto di Aielia, cui, ma il condizionale è d'obbligo, se ne dovrebbero aggiungere altre 100. L'Abruzzo ha capacità importanti, avendo una disponibilità pressoché doppia rispetto al suo fabbisogno. Andiamo a vedere in questo richiamo dal nazionale il tema delle autostrade. del Rio favorevole agli sconti ai pendolari, così il ministro che apre degli sconti fino al 20% per i pendolari, sconti che sarebbero coperti da risorse regionali e nazionali, un piano economico per l'autostrada di 5 anni che permetta di calmirare le tariffe in modo strutturale. Questo è un po' il risultato dell'incontro che c'è stato ieri, cui però Strada dei Parchi ha detto in qualche maniera di no, bisognerà continuare a trattare. Andiamo a centropagina adesso. Nella fotonotizia, Chieti acquisita la cartella clinica, scatta l'inchiesta, muore durante il cambio del pacemaker, muore in ospedale mentre gli sostituiscono il pacemaker. La procura di Chieti ha aperto un'inchiesta sul decesso di Angelo Dalò, 78 anni, nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia. Altra notizia, fa volontariato, aggredito perché di colore. Teramo, l'uomo circondato e insultato alla fermata del bus in tanti scandalizzati. Andiamo a leggere un estratto dell'articolo a pagina 46, firmato da Poeta. Arriva da Castelnuovo una storia di odio mista al razzismo, vittima un ragazzo richiedente asilo, aggredito verbalmente l'altro giorno alla fermata dell'autobus con insulti e sputi. Questa, insomma, è la storia, certo non edificante, che viene raccontata sul messaggero. L'uomo, che viene chiamato Elia, è un migrante che in Italia ha aiutato chi aveva bisogno, da tempo vive in un residenza a Roseto, è nato in Camerun, ha attraversato il deserto, ha vissuto nelle carceri in Libia, fra tortura e morte, è fuggito per fortuna da tutto quello, è stato salvato come in tanti nel Mediterraneo, oggi è grato al nostro paese. Nonostante tutte le sofferenze, non ha mai perso il sorriso e la voglia di aiutare altri poveri. Continuiamo con la lettura del messaggero, andiamo di spalla, notizia che abbiamo già visto in precedenza anche sul centro, Mattarella nel cuore dei laboratori del Gran Sasso. È prevista la visita del capo dello Stato per i 30 anni dei laboratori. L'evento si svolgerà il 15 gennaio, saranno presenti tutti gli scienziati. Andiamo nel taglio basso adesso del giornale. Altra notizia che invece arriva da Pescara. Pescara, Piazza Garibaldi, regna il degrado. Le mille facce di una piazza possono essere svelate, solo ripercorrendone la storia in un viaggio lungo e controverso. A pagina 37 l'articolo, dai personaggi illustri alle unificazioni e alle guerre, alle ricostruzioni dei momenti d'ora a quelli di oblio, passando per cattedrali, archi e monumenti. Piazza Garibaldi, che abbraccia Pescara Vecchia, e quel dedalo di Viuzzi alle sue spalle, punteggiato da bar-ristoranti e da una movida spesso troppo chiacchierata, e questo e tanto altro. La casa natale di D'Annunzio è a due passi. Andiamo adesso nel taglio alto. Le altre notizie. L'incidente schianto tra autodonna ferita, non sembra grave. Poi il decesso, notizia che arriva da Martinsicuro, e poi Lanciano, Foggia, Falconara, deragliano due carrozze del treno merci. L'Aquila, la stazione FS cambia volto. Nuova viabilità e più parcheggi. L'intera area, destinata a trasformarsi con un intervento radicale, previste anche opere di raccordo con le mura appena restaurate. Questa è la prima pagina del messaggero. Adesso passiamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo di apertura, Roseto, è una fucina di parlamentari, Ginobili, Sottanelli, Ciancaione, Corneli e Ricci. Ecco tutte le strategie per ottenere le candidature. Ora andiamo a centropagina. Nella fotonotizia, Martinsicuro, frontale sull'Adriatica, muore una donna di 75 anni, incrocio mortale. Il titolo sulla fotografia. Troviamo anche, sempre sulla prima, la riflessione di Marcello Martelli, la cavalcata degli invisibili. Poi nel taglio alto andiamo a Giulianova, Mastromauro incandidabile per Retco, poi il volontario rosetano, migrante aggredito alla fermata dell'autobus, di spalla il rapporto della Camera di Commercio, vedete la foto del Presidente Lanciotti, congelata la fusione delle Camere di Commercio. Il terremoto, poi crisi e paura, 233 residenti in meno in città. Andiamo sotto la fotonotizia, ancora Cronaca, si barrica in casa e spiana il fucile, Bellante, 81enne, minaccia di fare fuoco sulla nipote. Nel taglio basso, Serie C in pezzi, dopo Modena, Vicenza vicino al fallimento, Teramo ad un passo dalla salvezza. Se infatti il Vicenza non dovesse proseguire il campionato, non ci sarebbero retrocessioni nel campionato di Serie C. Lasciamo le prime pagine regionali, adesso, come di consueto, apriamo lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Titolo di apertura, sterzata dei 5 stelle sull'Euro. Andiamo a vedere perché. I timori del centro-destra sulla Lombardia, intanto Berlusconi, nessun incarico a Maroni. Di Maio, che è il leader del Movimento, dice non è ora di uscire. Banche è la telefonata di De Benedetti su Renzi. Così, il leader pentastellato Luigi Di Maio, che dice no all'uscita dall'Euro, che era stato uno dei grandi cavalli di battaglia del Movimento nei mesi scorsi. C'è poi l'editoriale, il fondo di Antonio Polito, partiti e soldi pubblici, promesse senza futuro. Si dibatte tanto in questi giorni delle promesse elettorali, più delle volte probabilmente anche senza possibilità di essere realizzate per mancanza delle necessarie coperture economiche, soprattutto quando si parla di taglio di tasse. A centro pagina troviamo i dati sul lavoro occupati e crescita record, ma con contratti a termine. Mai così dal 1977 le disparità di genere in busta paga. Passiamo sulla Repubblica, il titolo di apertura, il PD a Grasso, uniti in Lombardia, appello dei Renziani, ma vacilla il patto su Zingaretti nel Lazio, caos a destra su Fontana, gelo Salvini Maroni, il governatore sapeva tutto, nessuna intesa segreta con Berlusconi. C'è poi l'editoriale di Ezio Mauro, la partita obbligatoria della sinistra, appunto alle prese con divisioni che proseguono. A centro pagina troviamo invece una notizia dagli esteri, Corei, cinque cerchi di dialogo, accordo per le Olimpiadi. Si tornano a parlare, appunto, in vista delle Olimpiadi, le due Coree. Proseguiamo sulla stampa, il quotidiano piemontese, l'apertura lavoro per l'Italia, un record precario. Gli occupati al massimo dal 1977, ma i nuovi assunti sono quasi tutti a termine. Uno su dieci trova un posto fisso. Grasso a Renzi, verso un patto sulle regionali Lombarde, Di Maio non si esce dall'euro. E questo è il riassunto della giornata politica sulla stampa. A centro pagina, la strategia di Kim allontanare Seoul dagli Stati Uniti. Trego olimpica tra le due Coree e Pyongyang e cerca di spingere Cina e Russia a nuovi accordi. Andiamo sul sole 24 ore, chiaramente in apertura sul principale quotidiano economico e finanziario. Troviamo i dati Istat sull'occupazione. Il titolo dunque occupati, record oltre 23 milioni. Boom di contratti a termine. Boccia che è il presidente di Confindustria, che guida il gruppo editoriale del Sole. Riforme positive, potenziare il Jobs Act. A novembre 65 mila lavoratori in più. Tasso di disoccupazione giù all'11%. I giovani senza posto scendono al 32,7%. Proseguiamo con la lettura del Sole. Google contro Amazon sull'IA Intelligenza Artificiale. Al CES di Las Vegas. Le novità digitali per casa, auto e industria. Andiamo a vedere anche il focus nel taglio alto. Guida alla manovra. Iperammortamento sugli acquisti del 2017. Andiamo sul fatto quotidiano ora. Il titolo sulla fotografia. Me l'ha detto Renzi. La soffiata da 600 mila euro a De Benedetti. Nel 2015 l'editore chiede al suo broker di investire sulle azioni delle banche popolari. Sa della riforma in arrivo per decreto. Proseguiamo con il manifesto. Anche qui il titolo sulla fotografia. Attaccano bottone. Dopo mesi di timori per un conflitto nucleare. Le due Coree trovano un accordo sportivo. Il nord parteciperà ai giochi invernali nel sud. È un primo passo verso la distensione. Lo sconfitto per ora è il bottone più grande, tra virgolette, di Trump. Si parla chiaramente di bottoni per scatenare la guerra nucleare. E poi dati dell'Istat, record sul lavoro, ma a termine. Proseguiamo con il messaggero. Andiamo a vedere anche qui il titolo di apertura. Boom occupati, qualità bassa, piani dei partiti, costi record come vi ho anticipato in precedenza. Impennata dei posti di lavoro, meno giovani disoccupati, ma è soprattutto precariato. Una campagna elettorale con proposte per miliardi e coperture molto improbabili. Proseguiamo con un'altra notizia che riguarda i rifiuti. Faro dell'Unione Europea e il soccorso per Roma dagli impianti laziali. Ancora emergenza, ma l'imbondizia andrà a Ostia e Aprilia. Scontro 5 Stelle, governatori del Partito Democratico. E poi, smontato e poi rimontato, esecue e rinviate, Spelacchio gaffa il funerale di una vittima del malgoverno. L'ormai famosissimo albero di Natale di Roma non finirà in discarica, ma sarà fatto a pezzi, smontato per così dire, e rimandato in Val di Fiemme da dove proveniva. Qui sarà lavorato e diventerà una casetta per allattare per le mamme e anche gadget di legno, ricordo appunto di questa ormai star internazionale. Andiamo sul quotidiano Il Tempo. Il titolo di apertura, ecco lo sfascio sanitario nel Lazio, i dati shock della giunta PD, conti tutti in rosso, indebitamento folle da 3,8 miliardi, 6 ospedali perdono da soli 487 milioni l'anno, impicchiata pure le performance sanitarie. Andiamo adesso a centropagina, Il Tempo di Osho, io ci metto un attimo ad annacco Zingaretti e chiaramente la foto è quella di Pirozzi. Andiamo su Libero, il quotidiano diretto da Vittorio Feltri, non rompete il giocattolo, avvertimento al centrodestra, il vertice di Arco e ha partorito un'alleanza perfetta ma forse è l'uso i leader di aver già vinto. E' scoppiato il caso Lombardia e sono ripartiti gli scontri di potere, però così si rischia di perdere la faccia. Elezioni e regioni, questo avvertimento di Libero. A centropagina, ammazzano i cristiani e lui pensa ai profughi, Galantino, segretario dei Vescovi impegnato nella giornata del rifugiato. Andiamo sulla verità, ancora quotidiani di aree di centrodestra, sul voto il rischio di 700.000 licenziamenti. Cresce solo il lavoro precario, mentre il PD esulta per gli effimeri dati dell'Istat, vengono al petti nei nodi del Jobs Act. A partire da fine gennaio scadono gli incentivi che avevano drogato il mercato. I sindacati hanno paura che moltissime aziende perduti i benefici si liberino della mano d'opera. Continuiamo con il secolo d'Italia, il titolo di apertura vicini al 40%, chiaramente si parla della coalizione di centrodestra, di cui fa parte anche Fratelli d'Italia, a cui fa riferimento il giornale. E poi Salvini ora stoppa Maroni, non avrà ruoli di governo Maroni, che ha detto che non si ricandiderà alla regione Lombardia. E poi Bambini tra i macchinari e la Plato made in Cina. E poi Oprah sarà l'anti-Trump, libera a caccia del leader. Andiamo su Avvenire ora. Il quotidiano cattolico, il titolo di apertura e il lavoro, ai massimi, ma resta precario. Occupati a 23 milioni, meno giovani senza impiego. Dati positivi a novembre, con la disoccupazione in discesa all'11% e 65 mila posti in più, ma il 90% dei contratti è a termine. Vedete la lettura su questi dati dell'Istat da parte della maggioranza dei quotidiani, è più o meno la stessa. Andiamo a vedere anche le elezioni. I partiti siano credibili e partono le retromarce. Appello di Galantino e Padoan, Renzi frena sul deficit a 3% di maio sull'euro. Questo è il richiamo della CEI in piena campagna elettorale. Sul secolo XIX ora il quotidiano Ligure. Occupazione record, ma dilagano i precari. A novembre, numeri mai visti dal 1977, abbiamo già visto in precedenza. Andiamo a centropagina, chiaramente spazio al Festival di Sanremo. Baglioni, con me si cambia musica. Sanremo, le regole del direttore, spazio al pop e i giovani e canzoni più lunghe. Vedete la foto con Baglioni, Misce Lunsicher e Pierfrancesco Favino. Gli ultimi due saranno i conduttori del Festival di quest'anno, mentre Baglioni è il direttore artistico. Andiamo a vedere i quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Il titolo di apertura, Juve, mai così Max. Con la foto di Massimiliano Allegri e vi spieghiamo il perché. 200 vittorie in A, di cui 100 in bianconero su 134 partite, campioni in riga e signora stregata. Allegri decide più degli assi e vince più di tutti. E poi Chiellini ritrova Bonucci, amici alle Maldive. Vedete la fotografia insieme per gli ex compagni di squadra. Nel taglio alto, Morigno Conte, nuova rissa stellare. Antonio, sai cos'è l'epo? Grave, non dimenticherò. Un articolo firmato dal portavoce del portoghese. Accende la reazione del tecnico italiano. E adesso è scontro. Poi andiamo a vedere le altre notizie. Giochi di pace storica intesa tra le Coree via al disgelo con le due Coree che tornano a parlarsi. Nel taglio basso invece Inter, Rafinha c'è e Schurle. Questo per quanto riguarda il mercato. Sarri vuole subito Verdi, pressi in Napoli. Ma lui riflette. Il Barça apre per il brasiliano che non gioca da aprile. Adesso il Corriere dello Sport. Anche qui il titolo di apertura. Inter e Rafinha. Il brasiliano del Barça è diventato l'obiettivo nero-azzurro. Si tratta sul prestito. L'accordo è a un passo. Nel taglio alto andiamo a vedere il titolo sul Napoli. Festa Sarri con tre regali. L'allenatore del Napoli compie oggi 59 anni. Verdi, Scudetto e Dolberg. Intanto si offre dello Feu. Andiamo su tutto sport. Anche qui il titolo di apertura. Juve-Can. L'affare è doppio. Il tedesco, che ha un'intesa di massima con i bianconeri per giugno, ha detto due no al Bayern e al City. E da uno studio sulle statistiche della Premier emerge che ha numeri due volte superiori agli altri centrocampisti per quanto riguarda le palle recuperate e i contrasti vinti. Di spalla il Torino. Belotti plus Valenza per Cairo e Mazzarri. Il ritorno del Gallo è importante anche per la rincorsa all'Europa. Le altre notizie. La svolta. Presidenza FIGC. Costa Curta può unire tutti. Il mercato. Occhio. Atalanta. Il Liverpool tenta. Gomez. Nel taglio basso troviamo anche Milan e Inter. L'intervista. Competente e grande uomo. Gattuso. Nuovo Ancelotti. E poi Inter. Starridge si propone. Spalletti. Ci pensa. E questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la prima parte di Mattino 6. Adesso il break pubblicitario. Le previsioni del tempo. Poi torniamo con la seconda parte della rassegna. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dall'Abruzzo. Apriamo le pagine interne dei quotidiani regionali. Partiamo dalla pagina Abruzzo del Messaggero. Di scarica Abruzzo. Ok. Rifiuti da Roma. Ma la regione mette le condizioni. Lettera di D'Alfonso alla Raggi. Quanto materiale ci invierete tra le richieste. Anche il numero dei passaggi di tir. Con il pattume. Queste le anticipazioni. O comunque un sì che sembra scontato sul tavolo delle trattative. Eppure il prezzo di smaltimento dell'immondizia capitolina. Andiamo nel taglio basso adesso. Altra notizia. Importante pedaggi pressing di Del Rio su Toto. Sconti del 20% ai pendolari. Iniziativa del Ministro. Dopo l'incontro con il Governatore. Una delegazione di sindaci. Ora decide il concessionario. Andiamo sulla città. Ancora pedaggi autostradali. Anche Del Rio chiede di sospendere gli aumenti. Questo è il titolo. Il Ministro incontra i Presidenti D'Alfonso e Zigaretti. E convoca il concessionario strada dei parchi. Le proposte. Un piano economico finanziario concordato col concessionario. Consentirebbe di arrivare ad un massimo di aumento nell'ordine del 4%. Inoltre le Regioni hanno assunto l'impegno per le agevolazioni sugli abbonamenti per i pendolari. Che comporterebbero un'ulteriore riduzione del 20%. Nel taglio basso i rifiuti. D'Alfonso detta le condizioni alla Raggi. Convocata per domani la Giunta regionale per la decisione definitiva della Regione Abruzzo. Andiamo sulle pagine di primo piano del quotidiano. Il centro scuole insicure gli effetti della sentenza. Ora rischiano la chiusura oltre 300 istituti abruzzesi. La Cassazione dice i sindaci sotto processo se non vietano l'accesso alle strutture vulnerabili. L'Associazione Genitori avrà effetti storici. I primi cittadini è solo uno scarica barile. Vedete vengono riportati nel taglio alto alcuni commenti. il PM Picardi, l'ex magistrato protagonista della causa pilota, la geologa Lattocco. Vanno controllate tutte tranne quelle più nuove. Il sindaco di primi è una sentenza pericolosa perché espone solo i comuni. Il collega Biondi, se le cose stanno così, sarà un problema per tutta l'Italia. La presidente dell'Associazione dei Genitori, Regas. In Abruzzo i plessi a rischio sono regolarmente aperti. Nel taglio basso, cosa dice il verdetto? La sicurezza e la priorità. Tutto parte dal caso Grosseto. I giudici non fanno sconti. Proseguiamo sempre nelle pagine di primo piano del quotidiano. Il centro, aumenti da bloccare. Il gestore dice di no dopo l'incontro al MIT sui pedagini a 24 e a 25 del Rio d'Alfonso e Zingaretti. Chiedono sconti del 20% per i pendolari e fondi pubblici, ma strada dei parchi deve sospendere il caro pedaggio. E da quanto si è capito non ha alcuna intenzione di farlo. Questo sembrava una fumata bianca, ma alle 21 è arrivata la doccia fredda. La concessionaria non accoglie soluzioni che scaricano sulla società l'onere delle tariffe. E poi 60 fasce tricolori a Roma e per i sindaci la lotta continua. Di Natale aspettiamo atti concreti, tensioni con Casa Pound. Nel taglio basso i rifiuti da Roma, domani sì dell'Abruzzo. La giunta regionale darà il via libera, ma solo per tre mesi, anche se la Raggi non ha risposto alle richieste di D'Alfonso. Proseguiamo con l'attualità. Sisma, la prevenzione, scoperta, shock degli scienziati degli NGV. Il magma sotto l'Appennino sarebbe la causa dei terremoti. Vedete proprio una grafica, eccola qui, che spiega meglio che cosa accade con queste risalite di magma, che secondo i ricercatori sarebbero alla base di terremoti di forte intensità. E poi il clima impazzito, mai così caldo da 40 anni. Da oggi però torna l'inverno con una massa di aria calda che sta interessando il tirreno. Sulla capitale, temperature davvero alte per la stagione, minime anche se molto alte per il periodo invernale, mentre nel nord Italia c'è maltempo e neve. Andiamo avanti. Nella pagina dell'economia, altra notizia che riguarda la nostra regione. Consob, azionisti carichieti da risarcire per l'arbitro anche le nuove good bank, sarebbero costrette a pagare i debiti degli istituti messi in liquidazione nel 2015. Non sarà così per investimenti su obbligazioni subordinate che sono di competenza dell'ANAC. L'organismo in un anno ha ricevuto 1.900 ricorsi e nel 63% dei casi ha dato ragione ai risparmiatori. Andiamo sul messaggero e andiamo a vedere l'apertura della pagina di Pescara. Ok al bilancio, il piano sociale raddoppia la votazione in Consiglio Comunale. 5 milioni stanziati dal Comune, si aggiungono altri 5 del piano già approvato in Consiglio, mai così tanti da 15 anni. Il centrodestra rivendica le risorse alle fondazioni culturali. Il Movimento 5 Stelle ha sostenuto i disabili, la lista Teodoro, le fasce povere. Manovra approvata con 21 voti dalla maggioranza. Il Sindaco dice, non so quanti possono vantare finanze tanto solide per un Comune che comunque ha problemi nel far quadrare i bilanci. Poi dai pentastellati critica i finanziamenti a pioggia con un bando maggiori vantaggi. E poi la marineria pescarese perde altri pescherecci, gli armatori scelgono la rottamazione al Via I Lavori al Porto, Moretti cede il comando a De Carolis, giovedì la visita di Giampieri. Nel taglio basso, buone idee per le aziende locali, studenti premiati da Confindustria, creatività web e innovazione, borse di studio e stagio per i 13 finalisti di impresa in Accademia. E possiamo andare a vedere questo servizio. Direttore, Impresa in Accademia è un progetto che riguarda i giovani e voi come Confindustria puntate sempre più sui giovani. Sì, noi riteniamo che un paese che non scommetta sul futuro dei propri giovani è un paese destinato a morire, è destinato ad non avere un futuro. Ci stiamo adoperando, questa è la settima edizione che portiamo avanti in Presa in Accademia. Più di 300 studenti che entrano nelle aule non solo dell'università ma nelle aule di Confindustria per ascoltare testimonianze dirette di imprenditori e manager. E poi chiediamo loro, sugli 11 laboratori tematici a cui assisteranno, di elaborare il proprio modello di business o il miglioramento delle prestazioni delle aziende che ospitano questi ragazzi. Devo dire, ancora una volta siamo rimasti sorpresi del livello molto alto delle prestazioni tecniche di questi ragazzi. È un progetto a cui teniamo davvero tanto perché è rivolto ai giovani laureandi del nostro territorio e crea appunto questo matching tra il mondo dei giovani che è proiettato verso il mondo del lavoro e quello delle nostre aziende. Quindi credo sia una grande opportunità sia per i giovani laureandi ma anche per le nostre aziende che si avvalgono della loro progettualità, della loro creatività. Puntare sui giovani anche per la ripresa economica? Beh sicuramente sì, i giovani hanno sicuramente molta creatività, idee nuove, freschezze e quindi sicuramente ha detto una cosa giusta, bisogna puntare sui giovani e sulla loro anche professionalità che deriva dal loro percorso di studi. Nella pagina di Pescara del centro, andiamola a vedere, eccola qui, qualità dell'aria Alessandrini dicono alle domeniche a piedi, il sindaco per ora non c'è allarme, faremo un piano con gli altri comuni ma le polveri sottili hanno raggiunto livelli da record in tutta la città come potete vedere anche da questa grafica, complice anche un po' di assenza di vento che sta mettendo in difficoltà la qualità dell'aria nelle nostre città. Continuiamo con questa pagina, chiederemo i danni, confesercenti contrarie alla proposta del blocco del traffico e poi le reazioni, la proposta di Coldiretti, niente auto, fate largo ai prodotti degli agricoltori in piazza Salotto, questa appunto la proposta. Proseguiamo sul quotidiano il centro nelle pagine di Pescara, il commercio, negozianti contenti a metà, saldi troppo in anticipo, il bilancio del primo weekend, bene abbigliamento e calzature, male il resto. Ci sono state delle critiche perché la stagione degli sconti parte, secondo i commercianti, troppo a ridosso della fine delle festività natalizie. I conti del Comune che abbiamo visto in apertura sul messaggero, il Consiglio varia il bilancio con 10 milioni per il sociale, votato in tempi record il documento contabile dopo l'accordo con l'opposizione, aumentati i fondi per aiutare i disabili e per eliminare le barriere architettoniche. Proseguiamo il caso, via Rigopiano in mano alle gang, dopo le coltellate in strada i residenti vivono nel terrone, qua volano proiettili. Proseguiamo ancora sul centro, studenti in azienda e dopo gli stagi arrivano i premi, abbiamo visto il percorso di impresa in accademia e poi al Volta ci si prepara per l'industria 4.0 a pescare il progetto di Siemens ed Adecco. Proseguiamo sempre sulle pagine del capoluogo adriatico, rottamate 11 imbarcazioni, la flotta pescarese si riduce, molte famiglie hanno restituito la licenza di pesca grazie agli aiuti ministeriali, si ritira Spina, ma Camplone, Pacchione e Di Giovanni sono pronti al rilancio. Nel taglio basso, dedico a papà Corrado la vittoria a The Wall, parla Andrea Roma, figlio dell'allenatore scomparso nel 2004 che ha vinto la trasmissione di Canale 5. Nella pagina di Montesilvano, paura in strada, non si ferma al controllo, inseguito per 6 km, i carabinieri intercettano un'auto e la fermano a Città Sant'Angelo, il conducente ha preso diverse vie contro mano e danneggiato altri veicoli. C'è poi un intervento sulla nuova pescara dell'ex sindaco di Montesilvano, Cordoma, nuova pescara, solo manovre elettorali. L'ex primo cittadino è disertato la riunione convocata lunedì scorso dal governatore D'Alfonso con i primi cittadini e meriti dei comuni coinvolti nel progetto legislativo di fusione. Proseguiamo con la lettura delle pagine di Pescara, torniamo sul messaggero. Da Flaiano agli skateboard, i rimorsi di Piazza Garibaldi era il cuore della Pescara vecchia, oggi vive di ricordi e dei tanti problemi presenti, restyling sbagliato e zero manutenzione, i negozianti storici tra orgoglio e disappunto. Andiamo a vedere le altre notizie. I misteri dell'universo spiegati al sindaco, gli scienziati Kerr e Ruffini in comune ieri pomeriggio e poi nel taglio basso, maestri diplomati in miglia a Roma per il sit-in di protesta. Dall'Abruzzo una massiccia partecipazione, non vogliamo diventare insegnanti di serie C, dicono. Nella pagina dell'area metropolitana una nuova Pescara contro lo smog, polveri sottili da record, Alessandrini organizza un tavolo con i sindaci delle città vicine per definire strategie comuni, non c'è motivo di allarme, ma vogliamo evitare rischi di peggioramento, saranno coinvolte anche tua ed arta. Poi le altre notizie. Palazzo inagibile, evacuati i residenti uffici e negozi, appenne ordinanza del sindaco dopo le verifiche della protezione civile, inutili lavori di miglioramento sismico già eseguiti e poi nel taglio basso comitati in lotta, opere pubbliche dimenticate. Notizia che arriva da Montesilvano. Torniamo sul quotidiano Il Centro, nella pagina dell'area metropolitana, reddito di inclusione a Francavilla. In un mese 250 domande. Primo bilancio delle attività condotte dall'assessorato alle politiche sociali per aiutare le famiglie bisognose con il nuovo progetto REI. Nel taglio basso, spoltore, progetti di solidarietà, spettacolo di magia e raccolta alimentare all'interno dell'istituto comprensivo. Andiamo avanti. Nella pagina di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara, edifici lesionati, attività chiuse, negozianti, edicola storica di Penne e della piazza principale cambieranno sede per gli effetti del sisma rigopiano. L'INAIL sul caso di Francesco D'Angelo che chiede il caso di D'Angelo che riguarda una richiesta di risarcimento che non può essere erogata secondo una legge degli anni 30, aggiornata negli anni 60, secondo la quale se non c'è un reddito da lavoro che serve a sostenere la famiglia non si ha diritto al risarcimento in caso di morte. Poi chiaramente parliamo dell'episodio della tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola. Andiamo a Manoppello. Il 18 si decide su Palazzo Ferrara, Blaseoli del PD e al Cipe il finanziamento per la riqualificazione. Nel taglio basso all'anno le minoranze e consiglio urgente contro lo spopolamento. Proseguiamo con il quotidiano Il Centro, adesso apriamo la pagina di Chieti. Nuova spaccata, danni al panificio Stanisci, siamo a vasto gang in azione al negozio laboratorio del rione Santa Maria, vetrata in frantumi, distrutto il registratore di cassa. Protesta di Michele Marisi, Giovanni in movimento, l'aggiunta non pensa a un progetto integrato di sicurezza e c'è il no all'istituzione dei volontari per i controlli. Altra notizia, rifiuta l'alcol test e fugge in seguito e arrestato, ricerche da Chieti Scala a Cepagatti per il 48enne, era stato condannato per tentato omicidio. Poi nel taglio basso, battezzati due ospiti della residenza per disabili a Guardia Grele, toccante cerimonia nella cappella dell'ospedale per Roberto e Samuel, 54 e 39 anni. Adesso andiamo sul messaggero, aprire la pagina di Chieti. Muore nel cambio del pacemaker, scatta l'inchiesta della procura, i familiari hanno presentato denuncia aperto a un fascicolo per omicidio colposo, il decesso è avvenuto lunedì mattina in cardiologia, i carabinieri sequestrano la cartella clinica. Il PM Falasca disporrà l'autopsia per accettare eventuali negligenze dei medici. E poi, notizie che abbiamo già visto, dopo la fuga tenta di investire un militare, Teatino arrestato nel taglio basso, andiamo a vedere le altre notizie, funicolare a anello della filovia a bando per trovare i progettisti per la città di Chieti che cambia e poi la De Lolli si riapre dopo i lavori, i 5 Stelle denunciano degrado. Andiamo nella pagina di Rancianova Stortona, treno merci di Raglia Fossa Cesia, il convoglio ha percorso 17 km ed è arrivato in stazione con due carrozze fuoriuscite dai binari, danneggiata la banchina. Era appena uscito dalla garreria Diavolo diretto a Falconara, tratta bloccata e ritardi sulla rete, tempestiva la riparazione di RFI. E poi abbiamo già visto il furto con spaccata al panificio Stanisci di Vasto, è sempre da Vasto nel taglio basso, armi sicurezza e tensioni, vigili scrivono al sindaco e poi Ortona, spazio verde vista mare, si apre Parco Ciavocco. Restiamo sul messaggero, apriamo la pagina dell'Aquila. La stazione cambierà volto, ecco l'ambizioso progetto in apertura di pagina, nuova viabilità, parcheggio e bike sharing, così l'intera area è destinata a trasformarsi, previste anche le opere di raccordo con le mura civiche recuperate di recente, vedete anche dei rendering del progetto. Ci sono a disposizione 14 milioni che provengono dal Cipe. Di spalla, altra notizia, CNA, 10.000 imprese danneggiate dal sisma, questo è il report effettuato ieri. Proseguiamo con la pagina dell'Aquila. Lavoro e sisma, le ferite di Molinari, l'alcivescove merito festeggia il traguardo degli 80 anni, colloqui a tutto campo tra ricordi, bilanci e appelli per il futuro. I posti persi alla Siemens, che dramma, marciai con gli operai. Il terremoto può essere un'occasione, ma scatena brutti istinti. Proseguiamo con un'altra notizia nel taglio basso. La bolla del perdono è tornata in centro storico alla Banca d'Italia. Nella pagina di Avezzano sul Mona, presutti, ecco la svolta verde. Tornano all'amministrazione i 23.000 m2 del vivaio forestale, il piano dell'assessore all'ambiente del comune di Avezzano. In via Sandro Pertini, un nuovo cuore ecologico dove lavorare per coltivare piante e alberi da impiantare. Lasciamo adesso il messaggero. Andiamo ad aprire la pagina dell'Aquila sul quotidiano Il Centro. Avezzano, minorenni terribili, assenza scuola, con furto, vengono perdonati. Il giudice dichiara estinto il reato per due studenti e hanno rubato un'auto per compiere una scorribanda in città. Andiamo a vedere le altre notizie. Cesare, un nuovo questore di Prato, nomina di Gabrielli per il 56enne Aquilano, già capo della polizia ad Avezzano. Il raid notturno, cerchio ladri nel bar Ciofani, svuotano le slot machine. Nel taglio basso, Mattarella, la festa dei laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il capo dello Stato, lunedì, presenzierà all'apertura dell'evento per i 30 anni dell'attività scientifica. La pagina di Teramo ora, sempre sul quotidiano Il Centro. Paura bellante. Anziano si barica in casa con tre fucili. In preda a una crisi, minaccia di sparare alla nipote e ai passanti. Dopo due ore i carabinieri lo convincono a desistere. A Castelnuovo, migrante aggredito con sputi e insulti. E poi lo scontro a Villa Rosa di Martinsicuro, scontro fra due auto, muore una donna. La 75enne viaggiava insieme al marito, ha riportato gravissimi traumi e morta in ospedale. E poi nel taglio basso, la crisi allenta la presa più a export e imprese, ma l'artigianato soffre. La Camera di Commercio destina 944 mila euro a turismo, cratere e fiere. Possiamo vedere il servizio. L'economia teramana, secondo i dati della Camera di Commercio di Via Savini, nel corso dei primi mesi del 2017, evidenzia flebili segnali positivi nonostante le incertezze che permangono per quanto riguarda il mercato del lavoro, il sistema delle piccole e medie imprese artigiane e commerciali, la capacità di spesa delle famiglie e la ricostruzione post-sisma. Uno degli elementi di positività si può riscontrare nelle imprese registrate che sono aumentate di 301 unità, mentre quelle attive sono cresciute di 106 unità. Segni negativi ancora nei settori dell'agricoltura e delle costruzioni e l'aumento delle attività dei servizi alle imprese e alle persone. La Camera di Commercio di Teramo nei prossimi mesi punta decisamente al rilancio del turismo sul territorio e annuncia per il 2018 bandi per la concessione di contributi per il settore. Nel 2018 apriremo nuovi bandi, li annunciamo questa mattina, i bandi per quanto riguarda il turismo, l'abbattimento degli interessi, i bandi per quanto riguarda il cratere, il secondo cratere, pure qui interventi e contributi a fondo perduto per le imprese nel secondo cratere, un bando per quanto riguarda l'allungamento della stagione turistica, per quanto riguarda gli alberghi e gli agriturismi e complessivamente comunque come Camera di Commercio per il 2018 metteremo a disposizione il sistema imprenditoriale 944 mila Euro. Una somma importante la distineremo al settore del turismo, turismo in senso generale perché dobbiamo ridare una scossa, una forte impulso a questo territorio, imprenditorio, apriremo il bando sull'abbattimento degli interessi tra poco, c'è un progetto in piedi da fare insieme alla regione Abruzzo, quest'anno insieme all'assessore Lolli speriamo di mettere in piedi un grande progetto di rilancio del nostro territorio ma dell'intera regione. La Camera di Commercio di Teramo resterà a Teramo? La Camera di Commercio di Teramo ho già detto che resterà a Teramo, c'è stato un blocco per quanto riguarda la riforma con l'osservazione della Corte Costituzionale che ha stoppato un attimo il decreto di riforma, tra l'altro non riguarda noi perché noi eravamo partiti prima, però sempre nell'ottica di fare le cose in maniera prudente abbiamo chiesto alla commissaria ad acta che sta seguendo all'iter di fusione di aprire eventualmente il processo di apertura del progetto di fusione ad aprile del 2018. Note dolenti sono state espresse infine sull'andamento delle imprese artigiane nel Teramano. Negli ultimi dieci anni si sono persi progressivamente migliaia di posti di lavoro e come se fosse stata chiusa una fabbrica di 5.000 dipendenti. Il titolo del messaggero sulla conferenza stampa della Camera di Commercio Eccolo qui, sorpresa, l'economia è tornata a crescere ma la ripresa è flebile Il focus sullo stato delle imprese mette in luce l'impennata dell'export non riparte invece il mercato del lavoro Nella pagina della provincia, titolo principale, piscina chiusa, ora si va allo scontro Siamo a Giulianova, il consigliere Retco accusa il PD e la maggioranza Abbonamenti già pagati, bloccata anche la riabilitazione Protestano i pazienti che hanno bisogno della struttura Si spera che la gestione possa essere affidata a dei privati Ancora notizie da Teramo e provincia sulla città L'incidente in A14, uccisa dallo pneumatico del TIR Due gli indagati, oltre al camionista, è finito in uguale il proprietario del mezzo Entrambi italiani che lavorano in Germania In vacanza, la 31enne appena sposata e incinta al terzo mesero In viaggio assieme ai genitori e al marito, diretta verso la Puglia Ricorderete la tragedia che si è consumata lo scorso agosto Proseguiamo con la Camera di Commercio Congelata la fusione della Camera di Commercio Abbiamo sentito il Presidente Lanciotti Tutti poi verso le politiche Roseto si conferma una fucina di parlamentari Tanti infatti i prossimi candidati in lista Vedete Sottanelli, Ginobili, Corneli, Gatti, De Micheli, Ricci Questo per quanto riguarda il Teramano Proseguiamo Ginobili si affretta a pagare la quota PD L'On. Rosetano ha versato 57 mila euro nelle casse del partito Ancora Federico Fiorenza lascia la presidenza dell'ACS Il maestro resta tra i soci e sarà Presidente onorario Al suo posto il Sindaco di Tollo, Angelo Radica Proseguiamo con gli impianti sportivi Sei mesi di proroga per i campi sportivi Il Commissario ha garantito la copertura della compartecipazione alle spese Fino alla fine dei campionati per quanto riguarda Teramo In provincia si barrica in casa con un fucile da caccia Abbiamo visto in precedenza la notizia dell'anziano di Bellante Che ha dato in escandescenza Poi la crisi politica al comune di Montorio La palla passa alla prefettura Il segretario comunale invia gli atti delle dimissioni Intanto i dissidenti replicano alle accuse del sindaco L'incidente è Martinsicuro Morte all'incrocio con Via Filsi Anziana di 75 anni deceduta dopo il frontale Proseguiamo Retco Mastromauro è incandidabile Notizia che arriva da Giuliano L'oppositore ricorda ciò che il sindaco sa già sulle norme antisindaci Il migrante aggredito alla fermata del bus Volontario Camerurense insultato e preso a sputi da quattro sconosciuti Notizia che arriva da Roseto Prima di vedere la pagina dello sport Approfondirla meglio sulla città Invece andiamo nella pagina dello sport del quotidiano Il Centro Per vedere il pescare Dunque la Serie B europeo patente E ha il ricco 2018 di Capone L'esterno offensivo Sogno il titolo con l'Under 19 A breve mi iscriverò alla scuola guida Ai tifosi biancazzurri Dico andiamo a prenderci i playoff Al debutto in B L'attaccante di proprietà dell'Atalanta Ha segnato 5 gol in 11 partite Sarebbe bello raggiungere la doppia cifra Dice Capone Per quanto riguarda invece le partenze dal Pescara Gans non vedo l'ora di segnare per l'Ascoli L'ex pescarese si è presentato ai tifosi marchigiani Dopo la firma del contratto In ingresso il mercato dei biancazzurri Preso Gravion, Mazzotta e del Parma Il difensore arriverà lunedì in Abruzzo Gli emiliani soffiano il terzino al Brescia Embalo domani o venerdì il Pescara proverà a chiudere Su Benali ci sono Crotone e Parma Ma il Delfino non lo cederà in prestito La richiesta di Sebastiani è di 2,5 milioni di euro Andiamo avanti a parlare del Teramo Asta, Teramo voglio la salvezza al più presto Il tecnico riceve un premio ad Alba Adriatica Insieme a Cosmi e Capuano I tifosi sono ancora scottati per la Serie B persa Ma la loro passione è immensa E poi il prossimo avversario dei Biancorossi Il Vicenza va verso il fallimento A rischio la gara del 20 di gennaio Scendiamo nel taglio basso di questa pagina Serie D, Caos all'Aquila per lo stadio Vastese preso il difensore Cane Nero Stellati, Mecomonaco è più vicino Dopo le dimissioni dell'allenatore Poi Bancoschi pronto a lasciare l'angolana Eccellenza dopo 12 anni il patron nerazzurro È un passo dall'addio Per la Coppa Italia oggi le semifinali Giulianova Spoltore e Chieti sfida la Torrese Per la promozione Coppa e recuperi Oggi sei gare in programma Completiamo la lettura dello sport sul quotidiano Il centro, il basket di Serie B, il personaggio Fontecchio è da NBA Raiola un predestinato Andiamo a vedere insieme adesso anche la pagina Dell'Abruzzo Sport sul messaggero Pescara aspetta l'ok per Embalo Il titolo di apertura Il Palermo continua a temporeggiare L'arrivo dell'esterno chiude gli spazi del sole Può dirsi chiusa la trattativa con Gravion Sebastiani ha avuto nuovi colloqui con l'Inter Intanto il primo acquisto è il portiere Szoveno Vidovcec In Serie D l'Aquila ultimatum Per evitare lo sfratto Lo stadio a rischio Chiusura per l'amorosità Nei confronti del comune Cambiamo pagina Siamo alla Serie C il Teramo Vicenza verso l'addio Teramo cambia strada Alla luce di questa situazione Che sarà definita nei prossimi giorni Gli obiettivi dei ragazzi di Asta Potrebbero variare drasticamente Nel taglio alto troviamo la Serie A2 di basket La sfida di Davide Moretti in Big 12 Con i Texas Teach I motori Il debutto di Caldarelli nel Super GT giapponese Intanto Iannone con Belen in vacanza a Dubai Per il basket di B Amatori patron di Fabio Medita L'abbandono Scendiamo nel taglio basso La Serie D Nero Stellati si dimette di marzo Va stese Arriva a cane dalla regina Andiamo a vedere anche il titolo della città Sulla Serie C e sul Teramo La C cade a pezzi Anche il Vicenza è finito Dopo Modena anche i Veneti è un passo dal fallimento Il Teramo riflette se conviene davvero investire La fine della corsa dei Veneti Non sono arrivati gli stipendi come ha messo anche il DS Zocchi Da oggi i giocatori potrebbero decidere di non allenarsi Cronaca di una fine annunciata per una Serie C alla deriva E nel taglio basso Prove di 4-3-1-2 col Pescara Primavera Ma il Teramo cade di misura Biancorossi in vantaggio con Barbuti Delfino che rimonta con Morselli e Borrelli Zichella dice buona la condizione fisica Andiamo a vedere il sunto di questa partita amichevole giocata ieri Nel primo test del 2018 il Teramo perde l'amichevole al Bonolis contro il Pescara Primavera 2-1 Nel primo tempo il Teramo era andato in gol con Barbuti Poi c'è stato il pareggio del Pescara Primavera Con un tiro dalla distanza di Morselli Sul quale il portiere calore non è stato perfetto Nella ripresa al primo minuto il gol che ha deciso questo test amichevole segnato da Borrelli per il Pescara Primavera Asta ne ha approfittato per provare il modulo 4-3-2-1 Per tornare al cosiddetto albero di Natale Schierando Altobelli e Speranza al centro della difesa Con Diallo e il Baby Gualtieri sulle fasce Poi con Bacio Terracino e Sumare a sostegno dell'unica punta Barbuti Meglio sicuramente il Teramo nel primo tempo Diverse occasioni create anche una traversa colpita da Sumare Nella ripresa dopo anche il gol di svantaggio La squadra di Asta non ha creato molto per trovare il gol del 2-2 Stiamo lavorando tantissimo con il ministro, lo staff, tutto quanto, col prof Ancora ieri abbiamo fatto una doppia seduta Ma questo non vuole essere una scusa Tutti i componenti della Rosa hanno fatto 45 minuti L'obiettivo era quello, mettere ancora un minutaggio nelle gambe Però al di là del risultato che lascia il tempo che trova Io ho visto che i ragazzi sono mossi bene Quindi prova positiva Ecco, la novità è questo ritorno ai due giocatori a sostegno del centroavanti Questo 4-3-2-1 Quanto state lavorando e quanto credete a questo ritorno al modulo di inizio stagione sostanzialmente? Beh, è un ritorno ma è anche un vantaggio Perché ci abbiamo lavorato tutto il ritiro, tutto il mese di agosto, settembre Siamo andati avanti fino a metà ottobre, fino a Pordenone Non so esattamente la data, non la ricordo Però, insomma, mi sembra che la squadra risponda anche abbastanza bene Poi, i moduli a 4-3-5, insomma, lasciano sempre anche lì in questo caso il tempo che trovano Perché dipende come tu affronti la partita Cioè, se giochi 4-3-3, i due attaccanti laterali che sono sulla linea dei difensori Quindi è ancora più difensivo di prima Quindi dipende l'altezza del campo in cui si fanno giocare gli attaccanti Noi ci crediamo, però non è detto che poi durante la partita stai vincendo Manca pochi minuti, non c'è scritto nessuna parte che ti metti a 5 dietro Oppure stai perdendo e vuoi mettere un attaccante in più Insomma, voglio dire, dipende poi dalla base Partiamo da una base, la base è 4-3-2-1 E poi dopo ci arriviamo su durante la gara E con questo servizio si chiude questo spazio di rassegna stampa Mattino 6 torna domani alle ore 8 La nostra informazione alle 14, alle 19 e alle 23 con il TG6 Grazie per essere stati con noi Buona giornata Buona giornata Buona giornata